Che ne pensa del mostro di Firenze? Sono io! Che ne pensa del mostro di Firenze? Che ne pensa del mostro di Firenze? Non faccio cose dannose! Ci riesce a salirci? Ok, adesso che ne pensa del mostro di Firenze? Sono io! La raccomando io a te? Io! Lei è proprio un donkey! Bro, ma è tutto bagnato! Quindi? Tu non lo sai? Sta piovendo addirittura! Zoni! Quindi? C'è da dire che questi giochi da bambini vorrei anche non giocarsi però... C'è scritto che non puoi portare il cane! Perché tu stai qua dentro allora? Ma io vedo già due cani! Io vedo tre! Sta piovendo! Cioè vedi te stesso con il flesso! Alexander sta piovendo! Oh mamma mia madre! Quindi? Perché ieri non pioveva no! No ieri! Ma adesso piove bagnato! Quando torna Bruno? Quando torna dall'allorbo? Pronti alla gara di corsa? No perché mi serve che qualcuno mi tenga il telefono perché non voglio... Mi fate notare anche te che ce l'hai tutta mandata! Mi BODIOS E dairym ok? Abundiyor Abundi Abundang Ami Abundang Mit Mignot Infillald ragazzi ragazzi sta arrivando un mostro di firenze se nel mondo esistesse un po di bene ognuno si considerasse suo fratello ci sarebbe meno pensieri meno bene il mondo ne sarebbe assai più bello la mia squadra è formata da fiorri ti spacchiamo la testa se sgarri pezzo di merda ti ammazzo i paletti fiorri mi piacciono i fiorri fiorri mi piacciono i fiorri fiorri mi piacciono i fiorri 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 mi piacciono i fiorri mi ricordo tanto un po' non dico cosa che faccio cosa cosa hai detto io ti voglio bene ma non mi aggirmo a le tonti non prendi la velocità si ve lo prendi e me mi ha bloccato sto figlio tipo quindi se mi blocca tieniti forte che sto un po' cari ok perfetto il materiale come si